Tre punti che sanno di liberazione. Sono quelli ottenuti dal Brindisi sul campo del Gravina. Finisce 0-1 il delicato scontro salvezza del girone H di Serie D del vicino. Formazioni, Murciani in campo con il 4-3-3 e tridente d'attacco formato da Ungaro, Baianne e Di Paola rispondono i messapici di Mister De Luca con il 3-4-1-2. Calemme agisce a supporto della coppia formata da Palumbo e Buglia. A vari di emozioni i primi 20 minuti del primo tempo. Le occasioni iniziano a fioccare dal 25esimo. Ci prova Calemme prima di tutti che anticipa Ungaro e va al tiro. Palla alta assist di Palumbo. Al 28esimo risponde il Gravina con Di Paola che però liscia clamorosamente nel cuore dell'area di rigore una clamorosa occasione da rete. Al 30esimo è la volta di Bottari. Conclusione dei 25 metri centrale. Tra il 34esimo ed il 36esimo botta e risposta. Ci prova per i Gravinesi. Ungaro. Palla che termina al lato. Al 36esimo cross di Iaia. Testa di Forbes. Conclusione al lato dell'ex Fasano. Nella ripresa il Brindisi passa in vantaggio al 15esimo. Clamorosa ingenuità tra Gigli e Petrospa gratis. Pasticcio che costa un calcio di rigore per un fallo commesso ai danni di Palumbo. Dal dischetto Calemme non sbaglia. 0 a 1. Prova a reagire il Gravina al 22esimo. Punizione con Agresta. Para però pizzolato. Non succede poi più nulla e dopo 5 minuti di recupero i messapici possono esultare. L'ultima vittoria era datata 6 gennaio 2021 contro il Francavilla.